Cibo ed esercizio come potenti medicine. In questa lettura vi parlerò dei meccanismi che stiamo scoprendo che collegano il ruolo di una corretta alimentazione dell'attività fisica e di altri stili di vita nella prevenzione e trattamento delle patologie croniche degenerative. Allora, iniziamo con un'introduzione molto importante perché c'è un problema di sostenibilità dei nostri sistemi sanitari nazionali, per lo meno per i paesi che ce l'hanno, ancora pubblico. Ora vedete che miliardi di dollari vengono spesi nel mondo occidentale ogni anno per trattare patologie che sono in buona parte, non totalmente, ma in buona parte prevenibili. Per esempio negli Stati Uniti, il paese che spende di più al mondo in healthcare, nel 2013 avevano speso 2,8 trilioni di dollari e nel 2021, dati del CDC, 4,1. praticamente in otto anni la spesa è lievitata praticamente di 1,3 trilioni di dollari e dati del CDC, il 90% di questi 4,1 trilioni di dollari sono spesi per trattare, non per prevenire le patologie, sono per trattare patologie dopo che sono avvenute. Se mi permettete un'analogia è come se noi aspettassimo che le nostre automobili si rompono perché non abbiamo cambiato l'olio, non abbiamo fatto la manutenzione dei freni, dei copertoni, dei filtri, delle cinghie di trasmissione, quindi aspettiamo che la nostra macchina si rompa e a quel punto arrivano tutti questi specialisti che cercano di riparare in qualche maniera il danno avvenuto per una cattiva manutenzione. In Italia vedete che i dati sono anche preoccupanti, questi sono dati dell'OSMED, quindi dell'Agenzia del Farmaco Italiana, quindi sono dati pubblici che potete trovare nel sito dell'Agenzia del Farmaco dell'AIFA, vedete che per esempio la spesa territoriale pubblica è passata da 4 mila milioni di euro nel 1985 a 14 mila, quella ospedaliera, vedete qui, è passata dal 2011 che era intorno ai 5 mila milioni di euro a più di 8 mila, quindi quasi raddoppiata e come vedete la spesa sanitaria corrente, questi qua sono dati dalla ragioneria generale di Stato, solo dal 2018 al 2019 è aumentata del 2,4%, da 116 miliardi a 117,3 miliardi, 2,4 all'anno in dieci anni sono 24% di aumento della spesa, quindi non è soltanto gli Stati Uniti, vedete appunto, che hanno avuto questo aumento spaventoso dal 2013 al 2021 di praticamente 1,3 trilioni di dollari, ma anche l'Italia ha lo stesso problema e sappiamo in Italia, come in molti altri paesi avanzati, che questo incremento progressivo in alcuni paesi esponenziali del costo della salute è insostenibile, per esempio qui in Australia il governo ha già stimato che nel 2050 il costo della healthcare raddoppierà in termini di GDP e quindi sarà insostenibile. Per l'Italia ci sono dei problemi aggiuntivi perché è un paese molto anziano, il paese con la terza popolazione più più anziano al mondo. Vedete che nel 2021 il 23,4% di italiani aveva più di 65 anni e solo il 12,8% aveva meno di 14 anni. Il problema è che è previsto che nel 2050, salvo eventi tipo pandemie particolarmente letali sugli anziani, molto più letali del Covid, potrebbero cambiare, ma a palle ferme è previsto che nel 2050 il 34,4% della popolazione italiana avrà più di 65 anni, ergo un terzo della popolazione sarà in età di pensione, sarà in pensione e quindi un terzo circa dovrà mantenere due terzi della popolazione. Impossibile. L'altro problema è lo tsunami di invecchiamento non in salute, questi qua sono dati che abbiamo pubblicato con Vincenzo Tella su Aging Cell nel 2018, su dati raccolti dai medici di base italiani, il Health Search Database, su circa un milione di pazienti, il 90% nel 2011 degli italiani con più di 65 anni aveva meno una malattia cronica e il 65% due o più patologie croniche. Questo trend, vedete, dal 2004, 8-11 è in aumento, cioè il numero di persone con pluripatologie continua ad aumentare per tutte le fasce di età. L'altro secondo problema importantissimo è l'epidemia di sovrappeso e obesità che non è ad appannaggio esclusivo degli Stati Uniti ma di tutti i paesi sviluppati e molti in via di sviluppo, paesi che prima appunto avevano un basso tasso di obesità e sovrappeso come Cina, Giappone ed altri, stanno raggiungendo gli Stati Uniti in termini di percentuali di persone in sovrappeso d'obese. La cosa più preoccupante è l'aumento drammatico di sovrappeso e obesità nei ragazzini, nei bambini. Vedete che in Italia c'è una distribuzione molto importante con la Val d'Aosta che ha un basso, un relativamente basso numero di bambini in sovrappeso obesi, mentre Campania, Calabria, Puglia, Sicilia hanno dei livelli altissimi, in Campania arriviamo al quasi 40%, uno su due dei bambini sono in sovrappeso odobesi e chiaramente almeno che uno non ipotizzi che ci sia una differenza genetica tra i bambini campani e i bambini di Bolzano, cosa che non è, questo è legato agli stili di vita. Perché è un problema? Perché l'obesità, soprattutto se inizia precocemente, è un fattore di rischio per tantissime patologie, ma in primis per il diabete di tipo secondo. Gli effetti sono devastanti, vedete praticamente che in questo studio pubblicato sul New England Journal of Medicine, giovani adulti che avevano già il diabete, quindi youth onset diabetes a 26,4 anni, dopo soli 13 anni, quindi quando avevano circa 39 anni, il 67% aveva sviluppato ipertensione, il 52% dislipidemia, il 55% aveva già la nefropatia diabetica che è una patologia gravissima che può portare poi alla dialisi al trapianto di rene, il 32% aveva la neuropatia diabetica, il 51% un iniziale retinopatia diabetica che poi potrebbe portare la cecità. Capite che i dati sono veramente agghiaccianti, nel senso che, visto che il numero di bambini in sovrappeso obesi aumenta, aumenta quindi il rischio di prediabete e diabete, e questo aumento di prediabete e diabete ha delle conseguenze importantissime, come vedete, su diverse patologie. E ricordiamoci che l'obesità e soprattutto l'obesità centrale non aumenta solo il rischio di diabete, e di necropatia, ma aumenta anche il rischio di ipertensione, infiammazione, dislipidemia. Le persone obese hanno un rischio più alto di fare un infarto del miocardio, di avere uno scompenso cardiaco, cardiomenopatia diabetica, ipertensiva. Hanno un rischio maggiore di sviluppare alcuni dei più comuni tumori, colon, mammella, utero, rene, esofago, stomaco, pancreas, fegato. Hanno un rischio più alto di fare ictus, di fare demenza, soprattutto quella vascolare. Hanno un rischio molto più alto di sviluppare patologie epatiche, tipo la patologia da fegato grasso, che può evolvere in steatoepatite, cirrose, cancrocirrosi. Le persone obese hanno un rischio più alto di calcolosi della coleciste, con tutte le complicanze. Se un calcolo dalla coleciste passa attraverso il coledico, si incunia nella papilla di Watter, può causare una pancreatite edematosa necrotico-emorragica, o del coledico-emorragica, che può portare anche alla morte. Naturalmente poi le persone obese hanno un rischio maggiore di patologie polmonari, dalla sindrome dell'apnea notturna e tante altre alterazioni. Le donne obese hanno un rischio più alto di avere alterazioni delle mestruazioni, infertilità, sindrome dell'ovario policistico. Gli uomini hanno un rischio più alto di sviluppare disfunzione erettile. E poi naturalmente il carico sulle articolazioni aumenta il rischio di degenerazione delle articolazioni, ginocchio e anca, e poi la neuropatia diabetica e la microangiopatia diabetica, che può portare a ulcere e poi anche addirittura amputazione degli arti. E tante altre, queste qua sono le maggiore, le più frequenti. Quello che però ci terrei a sottolineare è che Normalmente noi medici e altri professionisti della salute iniziamo a pensare o a consigliare ai nostri pazienti di modificare lo stile di vita solo quando le persone sono chiaramente obese, hanno un BMI superiore a 30. Raramente una persona con un BMI di 26 gli viene detto guarda che forse è meglio che tu modifichi lo stile di vita per evitare alcune complicanze. E questo è un problema perché viene sottovalutato un qualcosa di importante perché categorizzare le persone in normopeso, sovrappeso e obese solo col BMI non è un buon metodo. Io ritengo e consiglio che ai medici e professionisti e alle stesse persone di monitorare il loro quanto chili hanno acquistato da quando avevano circa 18-20 anni se naturalmente erano normopeso a 18-20 anni non tutti lo sono come vedete ci sono un sacco di bambini e ragazzini che sono già obesi ma ammettiamo che uno a 20 anni sia normopeso, no? Prendiamo una ragazzina una ragazza di 20 anni che è alta 1,70 m e che pesa 60 kg vedete l'indice di massa corporea del BMI è quasi 21-20,8 m ammettiamo che in 5 anni dai 20-25 anni il suo peso passi da 60-65 5 kg un chilo all'anno da mezzo chilo a un chilo all'anno è normale in molte società moderne il BMI passa da 21-22,5 se in altri 5 anni a 30 anni il peso arriva a 70 l'indice di massa corporea è ancora 24,2 se a 40 anni guadagna altri 5 kg e il peso arriva a 75 il BMI è ancora 26 e se tra i 40 e i 50 guadagna altri 10 kg e da 75 passa 85 il BMI è ancora 29,4 eppure ha c'è stato un aumento di 25 kg o qui in questo caso di 15 kg questo sappiamo da diversi studi epidemiologici pubblicati da Walter Willett e il gruppo di Harvard che per ogni 2,5 meglio 5 kg di aumento del peso corporea durante l'età adulta c'è un aumento lineare del rischio di sviluppare molteplici patologie croniche diabete cronopatia ipertensione alcune forme di cancro e quindi è importante monitorare questo aumento del peso ed è importante soprattutto impegnarsi e vi spiegherò come fra poco nel evitare questa escalation perché se uno prende 2-3 kg è molto semplice riportare indietro il peso al peso ideale se invece uno lascia si lascia andare da 3-5-10-15-20 kg poi modifica il reostato metabolico dell'organismo ed è molto più difficile spostare l'omeostasi metabolica a dei livelli normali richiede uno sforzo molto più importante quindi è per questo che bisogna controllare e impegnarsi imparare tutte quelle tecniche che ci permettono di evitare questa escalation vedete questo aumento progressivo del peso che purtroppo avviene in molti uomini e in moltissime donne e perché è importante adesso entriamo nei meccanismi metabolici perché noi sappiamo che man mano che aumenta la deposizione di grasso nelle nostre cellule grasse i nostri adipociti che sono deputati appunto a questa funzione di immaginizzinamento dell'energia in eccesso sotto forma di trigliceridi quando avviene questa ipertrofia degli adipociti questo causa insulino resistenza cioè questi adipociti ipertrofici producono degli ormoni chiamati adipochine che causano insulino resistenza cioè che bloccano l'effetto dell'insulina nel far entrare il glucosio nelle cellule cosa succede? succede che le beta cellule pancreate pancreatiche aumentano progressivamente la produzione di insulina si chiama iperinsulinemia compensatoria vedete per cercare di vincere questa insulinoresistenza periferica e quindi quello che si è visto in questo paper pubblicato su Nature Medicine nel 2021 è che la combinazione di ipertrofia degli adipociti e di iperinsulinemia causa un invecchiamento precoce degli adipociti che diventano senescenti e attraverso un meccanismo chiamato endoriduplicazione naturalmente questi adipociti senescenti iniziano a produrre un insieme di fattori pro-infiammatori e pro-tumorali e pro-invecchiamento quindi è fondamentale appunto ricordatevi che quando aumenta la circonferenza vita quando aumenta il peso perché nella maggior parte dei casi almeno che non siete degli atleti il peso quando aumenta il peso aumenta la circonferenza vita e quindi la deposizione di grasso a livello addominale viscerale questo si associa a insuloresistenza iperinsulinemia e tante altre alterazioni che poi vi spiegherò e quindi è importante prevenire questo importantissimo questa importantissima alterazione vedete queste qua sono dei dati che stiamo analizzando non pubblicati su circa 24.000 persone di cui abbiamo sia la glicemia a digiuno a un'ora a due ore e l'insulinemia a digiuno a un'ora a due ore dopo un carico di glucosio dopo uno GTT e vedete che già a partire da 80 a 90 milligrammi decilitro di glicemia a digiuno c'è un aumento lineare dei livelli di insulina quindi più alta è la glicemia a mano che si diventa insuloresistenti aumenta poi la glicemia si diventa pre-diabetici e infine diabetici e aumentano i livelli di insulina di qualità di insulina circolante per ogni 10 milligrammi di aumento della glicemia c'è un aumento di 3 micro unità per ml di insulina questo è ancora più alto vedete all'aumentare della glicemia a digiuno quindi se una persona ha una glicemia a 100 o a 95 rispetto a una che ce l'ha a 85 non solo i livelli di glicemia a digiuno sono più alti ma anche i livelli di glicemia dopo un carico di glucosio cioè significa che dopo che avete mangiato la glicemia normalmente aumenta in una persona normale la glicemia aumenta poco e l'insulina anche aumenta poco l'insulina viene prodotta per far entrare il glucosio durante la fase la fase post-prandiale però vedete che più alta è la glicemia più alta è la produzione di glicemia durante i pasti e siccome molte persone continuano a consumare cibo continuano a fare degli snacks hanno colazione poi continuano a mangiare dolci dolcetti poi mangiano mozzogiorno dolci dolcetti bevande zuccherate merenda cena e dopo cena continuano a mangiare quindi sono in un costante stato post-prandiale e le cellule vengono bagnate da costanti alti livelli di insulinemia l'insulina e sappiamo da diversi studi che abbiamo fatto pubblicate per esempio su questa review article in science nel 2010 che in tutti i modelli animali che abbiamo studiato ogni qualvolta iperstimoliamo la insulina i gf1 entropathway cioè i livelli di insulina e di i gf1 sono più alti questo induce un accelerato invecchiamento e una riduzione dell'aspettativa di vita e al contrario se noi riduciamo la stimolazione riduciamo gli addi di insulina e di i gf1 riduciamo fondamentalmente la stimolazione di questa pi 3 e k3 entropathway e la possiamo fare con dieta geneticamente con i farmaci e aumentiamo sia la durata della vita totale che la durata della vita in salute quello che viene chiamato health span e questo meccanismo è ancestralmente conservato e gli studi che io ho fatto negli Sti Uniti dimostrano che anche nell'uomo avvengono le stesse modificazioni in soldoni fondamentalmente se vi devo spiegare in maniera semplice cosa succede è che se abbiamo dei livelli più bassi di insulina circolante e di i gf1 perché abbiamo dei livelli più alti di i gfbp1 e bp2 e quindi meno via disponibilità di insulina abbiamo una ridotta attivazione di questa via di segnale circolare che si trova in tutte le cellule quindi una riduzione di pi 3 k e kt con un aumento di fox e quando fox aumenta e trasloca dal citoplasma al nucleo abbiamo un aumento di diverse di segnali importantissime per il ringiovinamento delle cellule per esempio abbiamo un aumento di geni e proteine che aumentano l'autofagia quindi la rimozione di detriti di proteine vecchie disfunzionanti di amiloide abbiamo un aumento delle capacità dei geni e delle proteine che riparano i danni al DNA ogni volta che le cellule si dividono soprattutto se sono attaccate da diversi da radicali liberi dell'ossigeno e altre sostanze tossiche c'è un aumento del danno al DNA che viene riparato da dei meccanismi molto sofisticati c'è un aumento degli enzimi antiossidanti come catalasi e SO2 e c'è una inibizione delle vie di segnale che aumentano la proliferazione cellulare quindi meno proliferazione cellulare meno mutazioni random meno senescenza cellulare e meno cancro e invecchiamento questo se riduciamo invece come vi ho spiegato se invece abbiamo un aumento della circonferenza vita abbiamo dei livelli più alti di insulina come vi ho spiegato sia a digiuno che durante nel post sprandiale che continuano ad attivare a legarsi al recettore dell'insulina e continuano ad attivare questa via di segnale inibendo FOXO e quindi inibendo autofagia antioxidant DNA ripare aumentando la proliferazione cellulare e naturalmente perché insulina e i GF1 sono come fratello e sorella c'è un impatto anche sulla GF1 pathway e sull'infiammazione quello che volevo dirvi è che questo meccanismo che dell'accumulo di grasso addominale in eccesso che causa insuloresistenza infiammazione perché produce citochine profiammatorie il grasso viscere in eccesso l'abbiamo dimostrato e pubblicato su Diabetes nel 2007 che poi sfocia in prediabete e diabete iperinsulinemia riduzione di IGF BP1 SHBG e quindi un'aumentata biodisponibilità di testosterone estrogeni la emotopoiesi cronale di cui parlerò fra un po' tutto questo è un minimo comune denominatore è un metabolic substrate che è responsabile per molteplici patologie naturalmente poi ci sono altri fattori come l'attivazione del sistema simpatico del cortisolo tanti altri fattori che aumentano appunto il rischio di sviluppare molteplici patologie tipicamente la nostra medicina diventa sempre più specialistica ed è normale perché voglio dire se io ho un tumore alla mammella voglio essere trattato dallo specialista dall'oncologo dal chirurgo più bravo che mi risolva il problema se ho invece una coronaropatia voglio essere trattato dal più bravo cardiologo che può decidere se mettermi uno stente o il cardiochirurgo se ho necessito di un bypass aorto coronarico se ho un problema di fegato vado dall'epatologo se ho un problema di rene vado dal nefrologo perché una volta che la patologia si è sviluppata ed è conclamata è chiaro che ci vuole uno specialista perché non esiste più un medico che possa curare in maniera specialistica e accurata tutte le diverse patologie addirittura ci sono degli specialisti all'interno della cardiologia dell'oncologia normalmente l'oncologo che si occupa di cancro alla mammella fa solo cancro alla mammella chi si occupa di cancro al colon fa solo cancro al colon e via dicendo il chirurgo che opera la mammella il chirurgo non opera il colon e viceversa quindi c'è una super specializzazione che è necessaria ed è fantastica perché per l'amor di Dio grazie a questi avanzamenti tecnologici spaventosi riusciamo comunque a minimizzare il danno legato a tutte queste alterazioni metaboliche molecolari che si accumulano durante gli anni e che poi portano a tutte queste patologie che come dico come vi dico hanno un comun substrato metabolico molecolare e alla base di questo diciamo substrato metabolico comune ci sono vedete in verde un insieme di scorretti stili di vita con un eccessivo attratto calorico una vita sedentaria questi sono importantissimi in base agli studi sull'invecchiamento sono i due fattori più importanti però poi la composizione della dieta vi parlerò più avanti è importantissima il sonno dormire poco e male ha un effetto stiamo scoprendo importantissimo su diversi fattori metabolici molecolari naturalmente lo stress mentale come ho detto in alcuni dei video è importantissimo nel regolare l'infiammazione il sistema immunitario il fumo di sigaretta ha un effetto devastante sul rischio di sviluppare cancro al polmone ma tantissimi altri tumori la broncopneopatia cronico-ostruttiva che è una delle principali cause di morte legate al fumo di sigaretta e poi il fumo di sigaretta influenza anche il rischio di sviluppare un po' di rischio per coronaropatia naturalmente l'inquinamento ambientale con tutte le molecole tossiche ha un effetto simile al fumo di sigaretta e l'eccessivo consumo di alcol a sua volta sappiamo avere un effetto importantissimo nel rischio di sviluppare naturalmente epatopatia in primis però aumenta anche il rischio di tumore e di malattie cardiovascolari fibrillazione atriale e tante altre e naturalmente pancreatite quindi vedete praticamente che se noi agiamo su tutti questi fattori di rischio quindi non fumiamo cerchiamo di vivere in un ambiente poco inquinato non beviamo alcol o ne beviamo pochissimo e non tutti i giorni c'è un video che ho fatto su questo argomento mangiamo e facciamo mangiamo il giusto apporto calorico e facciamo attività fisica mangiamo una dieta varia soprattutto prevalentemente ma non esclusivamente vegetariana abbiamo delle specifiche alterazioni perché le fibre i fitocomposti le vitamine hanno un effetto importantissimo sulla dislipidemia sui livelli di pressione arteriosa sullo stress oxidativo sulla composizione del microbiota intestinale e naturalmente poi come dicevo lo stress mentale e il sonno ok quindi questo approccio di cui vi ho parlato vi parlerò deve essere la nuova maniera di fare medicina perché questo approccio ripeto specialistico che aspetta che i pazienti vengono da noi con dei sintomi di malattia con delle malattie che tipicamente richiedono tantissimi anni per svilupparsi è insostenibile come ho già spiegato quindi dobbiamo spostarci su un modello che sia più incentrato sulla prevenzione ma non sulla prevenzione mangia più frutta e verdura fai attività fisica abbiamo delle conoscenze al giorno d'oggi per disegnare degli stili di vita che sono sartoriali nel senso che vanno in base a dei parametri metabolici ormonali che possono essere misurati nel singolo individuo un bravo medico un bravo specialista che ha conoscenza di queste di queste teorie può disegnare e aiutare appunto le persone a migliorare non soltanto il peso ma tutti quei fattori ormonali metabolici che vanno ad impattare queste vie dell'invecchiamento riducendo il rischio di sviluppare molteplici patologie perché si migliora questo substrato metabolico comune allora adesso vi voglio dare degli esempi calzanti di quanto potente sono il cibo e l'attività fisica in questa lettura non parlerò del sonno di altre cose perché non ne ho tempo e anche l'attività fisica darò soltanto alcuni alcuni accenni allora parliamo della prevenzione primaria cioè prima che una persona sviluppi delle patologie allora questo per esempio è uno studio che abbiamo fatto negli Stati Uniti in pazienti che in persone sane che avevano tra i 50 e 60 anni BMI tra i 25 e 30 senza patologie conclamate e li abbiamo randomizzati a un controllo attività fisica un aumento del 25% del 20% della spesa energetica senza restrizione calorica invece in blu vedete sono persone che fanno restrizione calorica una riduzione del 20% dell'introto calorico senza attività fisica vedete che abbiamo ottenuto in un anno all'incirca l'8% di riduzione del peso corporeo in quelli che facevano attività fisica e il 10% in quelli che facevano restrizione calorica com'è che l'abbiamo ottenuto per l'attività fisica voi sapete che c'è questa idea che l'attività fisica non può far perdere peso che fare attività fisica tutt'al più aiuta a prevenire un ulteriore aumento del peso ma non ha un effetto nel ridurre il peso corporeo non è vero e questo studio randomizzato che abbiamo fatto appunto dimostra che non è vero chiaramente per ottenere una riduzione dell'8% del peso corporeo solo con l'attività fisica bisogna fare attività fisica praticamente tutti i giorni in questo studio appunto queste persone che hanno avuto questo successful weight loss avevano praticamente fatto attività fisica 6 giorni a settimana 5,8 giorni a settimana per un'ora al giorno ad un'intensità del 72% della frequenza cardiaca massima quindi 70% della frequenza cardiaca massima che si calcola 220 meno l'età e il 70% di questo di questo livello se uno si esegita a quel livello brucia prevalentemente grasso questo ha comportato una riduzione del circa 40% del grasso viscerale vedete questa qua è una risonanza sia restituzione calorie che l'attività fisica hanno dimezzato il grasso viscerale che è quello grasso che produce tutte queste sostanze tossiche queste adipochine che causano insomma resistenza infiammazione e tanti altri alterazioni della pressione del rischio di cancro e in alcune persone diciamo nel vincitore questa persona ha perso 14 kg e ha avuto una riduzione del 74% non c'è più praticamente il grasso viscerale nel suo addome questo naturalmente come vi ho spiegato dimostra in maniera causale che in effetti una riduzione del grasso viscerale si associa a un miglioramento dell'insulino resistenza vedete praticamente che diversi marcatori di insulino sensibilità come l'aria sotto la curva per l'insulina l'insulina digiuno e questo che il Matsuda Index che è un indice integrato di insulino sensibilità sono tutti migliorati in realtà lo sapevamo già questo lo conferma l'attività fisica è molto più potente della restrizione del calorica nel migliorare l'insulino sensibilità perché non soltanto agisce a livello del grasso viscerale nell'aumentare la diponectina nel ridurre gli acidi grassi liberi e citochine proinfiammatorie ma agisce anche a livello acuto del trasportatore del glucosio glut4 che viene attivato dall'attività fisica basta mezz'ora l'attività fisica per aumentare questo glut4 che fa entrare il glucosio nelle cellule migliorando l'insulina l'insulina action l'azione dell'insulina e l'insulino sensibilità e naturalmente questo comporta anche un aumento della glicemia sia a digiuno che come carico di glucosio l'aria sotto la curva per la glicemia questo semplice attività fisica e questo riduzione del 9% del peso corporeo 40% di riduzione del grasso viscerale si associa a una riduzione di circa 20 mg decilitro vedete nel colesterolo LDL c'è un aumento dell'HDL che è significativo nei quelli che fanno attività fisica e una riduzione dell'infiammazione soprattutto con la restrizione calorica e tante altre modificazioni che non ho tempo di andare a spiegare ci vorrebbero ore e ore e ore però questo è il messaggio sempre in prevenzione primaria questo è un altro studio randomizzato che abbiamo fatto in America tre centri Tufts Washington University e Pennington abbiamo randomizzato 220 persone con unità tra i 20 e i 50 anni quindi giovani con un BMI tra 22 e 28 quindi non in sovrappeso non obesi ma leggermente in sovrappeso per due anni e vedete che abbiamo prescritto 25 per cento di restrizione calorica in realtà abbiamo ottenuto in media il 14 per cento di restrizione calorica e hanno perso vedete queste persone 8 kg il BMI medio da 25 al baseline è passato a 22,5 con una riduzione del 70 per cento della massa grassa cioè il 70 per cento della partita del peso è legata alla riduzione della massa grassa e questo ha comportato in queste persone giovani non obese leggermente in sovrappeso un miglioramento drastico di tutti i fattori di rischio cardiovascolare un miglioramento una riduzione significativa del colesterolo totale LDL un aumento dell'HDL una riduzione dei trigliceridi importanti una riduzione della pressione sistolica diastolica e come vedete qui un miglioramento importantissimo dell'insulino sensibilità dell'area stola curva per l'insulina quindi anche in persone magre perché ripeto il BMI medio era 25 quindi una riduzione di 8 kg del peso corporeo che li porta un BMI di 22,5 ha un miglioramento veloce vedete già un anno importantissimo dell'insulino sensibilità quindi meno insulino circolante meno attivazione della insulina geofanentorpato e meno invecchiamento meno calcolo non solo sempre in questo studio abbiamo dimostrato che in queste persone c'è una riduzione dei livelli di stress ossidativo misurati con il gold standard che è la l'F2 isoprostani urinari miglioramento quindi riduzione dello stress ossidativo e riduzione dell'infiammazione vedete praticamente la proteina acidiativa si riduce in maniera importantissima il chiene falfa e vediamo una riduzione delle cellule bianche totali dei leucociti dei neutrofili dei monociti e dei linfociti in maniera altamente significativa vedete P0,001 questo è importantissimo ed è un'osservazione che fino a qualche anno fa non riuscivo a interpretare sì certo sappiamo meno cellule circolanti meno infiammazione ora però esistono degli studi che fatti con delle metodiche molto sofisticate con la PET la PET è una diagnostica che usa dei traccianti radioattivi per andare a misurare diversi diversi fattori se si usa un tracciante particolare il fluoro radioattivo praticamente il glucosio fluorato praticamente si può andare a vedere il metabolismo e come vedete quello che questo studio pubblicato quest'anno sulla European Heart Journal dimostra è che le persone che sono in sovrappeso che hanno un'aumentata circonferenza vita hanno dei livelli più alti di insulina hanno e sono più insuloresistenti vedete hanno un'attivazione del delle cellule staminali del midollo osseo cioè le cellule staminali che poi producono i leucociti sono più attivate quindi aumentano la produzione di leucociti che vengono rilasciati in circolo vedete qua praticamente con la PET si vede che nel midollo osseo delle vertebre c'è un aumento in blu dell'attivazione c'è un'attivazione del midollo osseo con un'aumentata produzione di leucociti di cellule rosse e questo si è visto praticamente si associa a un'aumentata attivazione delle placche le placche aterosclerotiche delle coronarie di altre arterie sono più infiammate quindi più se sono infiammate significa che sono più a rischio di infarto del miocardio e c'è anche un aumento vedete del volume delle placche acerosclerotiche quindi questo studio insieme ad altri fatti da Philip Quirschi e da altri dimostrano praticamente che quando attraverso un'iperstimolazione metabolica insulina colesterola e altre cose attiviamo la proliferazione delle cellule staminali questo aumenta il numero circolanti di leucociti linfociti e monociti e neotrofili che sappiamo essere drasticamente ridotti dalla restrizione calorica nei miei studi che ho fatto negli Sti Uniti se c'è un marcatore principe per sapere se è una persona in restrizione calorica sono il numero di leucociti circolanti di linfociti e di neotrofili perché è importante perché non solo questa che viene chiamata bone marrow activation o proliferazione delle cellule ematopoietiche ematopoiesi clonale aumenta il rischio di fare aterosclerosi ma naturalmente se aumenta la proliferazione cellulare aumenta anche come vi ho spiegato il rischio di mutazioni random e in effetti vedete che in questa ematopoiesi clonale c'è un aumento delle mutazioni che rende queste cellule più prone al cancro e naturalmente anche hanno un numero maggiore di mutazioni e la cosa interessante vedete qui lega tutto insieme la bellezza della scienza in questo paper pubblicato su Nature sapete una delle riviste più importanti al mondo in questo esperimento cosa hanno fatto hanno causato un'alterazione una mutazione di un enzima che controlla il riparo al DNA ok quindi hanno fatto una delezione di questo RCC1 che è un gene che è importantissimo per aumentare il riparo al DNA quindi avendolo eliminato c'è un aumento del danno al DNA e in effetti vedete che c'è questo marcatore di danno al DNA 8 deossiguanosina è più alto in questi topolini che hanno questa mutazione specifica di questo enzima di riparo al DNA nelle cellule staminali ematopoietiche cosa succede che queste cellule circolanti vanno in circolo e causano un invecchiamento di tutti gli altri ordini vedete che c'è un aumento dell'assenescenza P16 e P21 in tutti i tessuti aorta polmone fegato pancreas rene intestino cervello non solo c'è un aumento dei marcatori di senescenza ma c'è anche un aumento del danno c'è un aumento delle transaminasi della proteinuria di vari altri marcatori di danno quindi quello che questo lavoro suggerisce praticamente è che le mutazioni questo aumento della proliferazione cellulare sospinta da un substrato metabolico di iperinsulinemia infiammazione alti livelli di IGF-1 e testosterone e stradio tutti questi fattori che promuovono proliferazione cellulare nel tempo aumenta l'attivazione delle cellule staminali e quindi aumenta il rischio di mutazioni che causano invecchiamento sistemico e come vi ho detto abbiamo dimostrato che la restrizione calorica non solo nel toporino lo speravamo già ma anche nell'uomo questi sono gli studi che abbiamo pubblicato su Cell Report Reports and Aging Cell nell'uomo nel muscolo scheletrico praticamente attiva FOXO aumenta i geni e le proteine di riparo al DNA SO2 geni e proteine per l'autofagia LSC3 Becline aumenta i livelli di geni e proteine della XC protein 70 che è un importante ciapperone per aumentare la proteostasi cioè la capacità di mantenere un parco proteico cellulare sempre giovane perché man mano che invecchiamo le proteine si invecchiano diventano disregolate misfolded e causano danni e tossicità ci sono dei sistemi appunto come l'XC factor 1 e downstream l'XC potensate ed altri i ciapperoni che sono importantissimi per mantenere le cellule le proteine cellulari sane cosa si chiama proteostasi e poi c'è una riduzione dell'infiammazione con Marco De Maria abbiamo anche dimostrato che la resistenza calorica e l'attività fisica non l'abbiamo ancora pubblicato aumenta riduce i marcatori nel colon questo nelle biopsie della mucosa del colon riduce i marcatori di senescenza cellulare come P16 e P21 praticamente ci sono meno cellule senescenti man mano che invecchiamo sempre per quei meccanismi che vi ho spiegato le cellule diventano senescenti una maggior percentuale di cellule diventano senescenti e produce citochine proinfiammatorie chemochine metalloproteinasi ed altri fattori di crescita che promuovono ulteriore cancro proinvecchiamento quindi non solo dal punto di vista metabolico ma anche dal punto di vista molecolare queste modificazioni metabolico-ormonali si traducono in delle modificazioni cellulari dell'invecchiamento cellulare che viene rallentato se appunto teniamo questi ormoni bassi e invece vengono accelerate se abbiamo dei livelli cronici di attivazione di queste vie di segnale proinvecchiamento naturalmente questi stili di vita non funzionano soltanto nella prevenzione primaria cioè nel prevenire che le persone sviluppano patologie ma hanno un effetto anche nella prevenzione secondaria cioè se una persona ha già una patologia possiamo modificare la prognosi e lo sviluppo l'evoluzione di queste patologie vedete in questo studio che abbiamo pubblicato con Pier Ruggenenti e Giuseppe Remuzzi su diabetes abbiamo reclutato persone con il diabete tipo secondo e un iniziale nefropatia o diabetica e le abbiamo randomizzati per sei mesi a controllo o riduzione del 25% dell'introto calorico abbiamo ottenuto vedete una riduzione di circa 8 kg del peso corporeo una riduzione importante della circonferenza vita quindi del grasso viscerale abbiamo ottenuto una riduzione della glicemia dell'emoglobina glicata un aumento dell'insular sensibilità misurato con il clamp eoglicemico iperinsulinemico una riduzione della pressione sistolica diastolica dell'angiotensina 2 circolante per la prima volta abbiamo misurato con metodiche sofisticate l'angiotensina 2 e sappiamo che questo è un effetto pro-invecchiamento sapete che l'angiotensina 2 è un potente fattore di controllo della pressione arteriosa tant'è vero che esistono dei farmaci come gli ac inibitori che i pazienti ipertesi prendono o i sartanici che sono inibitori del recettore dell'insulina e sappiamo da diversi studi sul topolino che gli animali che sono knock out sia che non hanno il recettore per l'insulina per l'angiotensina invecchiano più velocemente no invecchiano di meno scusate quindi avere livelli più bassi dell'angiotensina come abbiamo dimostrato qui rallenta l'invecchiamento poi abbiamo dimostrato sempre in questi uomini che c'è una riduzione in parte dell'infiammazione con non soltanto 8 kg di riduzione del peso corporeo una riduzione importante dell'albuminure che sapete essere un fattore importante di monitoraggio dell'evoluzione della netropatia diabetica e per la prima volta col metodo dello Ioxolo Ioxolo che è il gold standard per misurare la filtrazione glomerulare abbiamo dimostrato che c'è una riduzione significativa della iperfiltrazione glomerulare che è la fase iniziale della nefropatia diabetica nel senso che all'inizio il rene cerca di compensare con un'iperfiltrazione poi nel tempo si esaurisce e si va verso la nefropatia terminale la dialisi e poi il trapianto renale non solo vedete questo studio pubblicato sull'ansia dei big disendocrinologi in pazienti diabetici che assumono farmaci una riduzione del peso corporeo di più di 15 kg è progressiva già con 5-10 kg c'è una riduzione del 40% del diabete del 34% del diabete che diventa 57% in quelli che perdono tra 10 e 15 kg ma in quelli che perdono più di 15 kg c'è una riduzione dell'86% del diabete cioè l'86% dei pazienti diabetici sono in remissione non hanno più il diabete e non prendono più farmaci per il diabete fantastico fantastico ok quindi il messaggio è che se avete il diabete soprattutto nelle fasi iniziali perché poi quando diventa tanti tanti anni di diabete è più difficile perché le beta cellule si esauriscono ed è più difficile ma nelle fasi iniziali del diabete uno stile di vita che vi riduce il peso corporeo in maniera importante può curarvi può mandarvi in remissione e non avete più il diabete e non avete più bisogno di prendere farmaci per il diabete però dovete essere seguiti dagli specialisti mi raccomando non fate da soli perché dovete essere seguiti dai medici specialisti che sanno il loro mestiere e vi guidano in questo percorso questo è un altro studio pubblicato su gastroenterology un gruppo cubano che fa vedere come persone che hanno la patologia del fegato grasso cioè che hanno un eccesso siccome hanno l'obesità hanno un eccesso di grasso a livello epatico e quindi sviluppano poi steatoepatite che poi può portare a cirrosi c'è una progressiva miglioramento della steatoepatite e in quelli che perdono più del 10% del peso corporeo con uno stile di vita quindi dieta attività fisica c'è un miglioramento nel 100% della steatosi epatica nel 90% c'è una risoluzione della steatoepatite e nell'81% c'è addirittura una regressione della fibrosi quindi non solo si riduce il grasso che naturalmente è ovvio ma addirittura la fibrosi i processi fibrotici possono regredire e questo è stato misurato con le biopsie epatiche quindi con il goal standard per misurare la fibrosi quindi dati importantissimi addirittura la fibrosi può essere ridotta e in effetti degli studi che abbiamo fatto il mio gruppo di ricerca fa vedere che sia l'attività fisica che la restrizione calorica per esempio riduce la fibrosi cardiaca perché miglioriamo la funzione diastolica ventricolare del ventricolo sinistro cioè sappiamo che man mano che invecchiamo il ventricolo diventa più fibrotico più rigido quindi c'è una disfunzione diastolica e la restrizione calorica non solo nel modello animale ma i nostri studi dimostrano che anche nell'uomo riduce questa fibrosi quindi questi dati suggeriscono un effetto fantastico nel ridurre la fibrosi epatica e addirittura cardiaca altri due studi al volo per far vedere la prevenzione secondaria questo è il famoso Lion Study di Circulation del 99 fa vedere che in persone che avevano già fatto un infarto del miocardio coloro che erano stati randomizzati a consumare una dieta mediterranea rispetto al gruppo di controllo che consumava l'American Heart Association Step 1 Die cioè la dieta consigliata dai cardiologi americani quelli che consumavano la dieta mediterranea avevano una riduzione del 76% del rischio di mortalità cardiaca infatti hanno dovuto bloccare lo studio prima perché era non etico continuare lo studio visto gli effetti mostruosi nel ridurre il rischio di rinfarto e morte cardiaca in coloro che consumavano la dieta mediterranea un altro studio pubblicato sull'Anset del 2002 fa vedere che sempre una dieta mediterranea indomediterranea ricca di alfa-linoleic acid riduce del 50% il rischio di infarto miocardico non fatale e del 60% il rischio di morte cardiaca improvvisa in pazienti che avevano già una coronaropatia quindi prevenzione secondaria non ho il tempo di entrare nei dettagli di come la dieta mediterranea va a modificare diversi fattori perché è una dieta ricca di fibre quindi relativamente povera di calorie e sappiamo dagli studi che abbiamo fatto che di per sé è una dieta ricca di fibre quindi cereali integrali non raffinati minimamente raffinati legumi verdure semi e via dicendo pesce riduce l'introito calorico perché è una ricca più di una dieta più ricca di fibre quindi energeticamente meno densa però poi naturalmente questa dieta proprio per la composizione per il tipo di cibi che è una dieta prevalentemente plant based modifica l'introito delle proteine degli aminoacidi dei fitocomposti degli acidi grassi saturi che sono più bassi sono più alti quelli monosaturi quelli polinsaturi gli omega 3 e modifica naturalmente il microbiota destinale questo ha effetti molteplici se vi interessa questo argomento c'è un video che parla di questo di questo degli effetti della dieta mediterranea ma per i più esperti c'è questa review che ho scritto su Journal Gerontology nel 2017 naturalmente per ancora le persone più esperte per gli addetti al settore quelli che sono degli scholars delle persone che vogliono informarsi c'è una review che ho scritto con Linda Partridge su Cell 2015 che è molto più avanzata e spiega nel dettaglio il meccanismo attraverso cui la composizione della dieta va a modificare soprattutto l'introtto proteico di alcuni aminoacidi metionina branch amino acids l'alterazione del micropodestinale e tanti altri fattori dietetici vanno a modificare molteplici fattori metabolici molecolari che sono alla base di quel substrato metabolico comune non entro nei dettagli perché altrimenti ci dilunghiamo troppo ancora più sofisticata è questa review che abbiamo pubblicata su Nature Review Molecular Cell Biology quest'anno Nature Review Molecular Cell Biology è la rivista più importante la seconda per l'impafacto l'impafacto di 94 in questo review con Dudley Lamming e Cara Green abbiamo praticamente descritto in una review molto ben referenziata praticamente quello che al giorno d'oggi si sa su tutti i meccanismi attraverso cui la dieta la restrizione dietetica di calorie aminoacidi digiuno intermittente via di centro vanno a modificare diverse vie di segnale diversi fattori che poi modificano il rischio di invecchiamento vi do un cenno velocissimamente per esempio sappiamo abbiamo dimostrato sapevamo già che la restrizione di metionina allunga la durata della vita e la metionina è un aminoacido che si trova in altissime concentrazioni dei prodotti di origine animale soprattutto nella carne ma in questo paper che abbiamo pubblicato con Darry Laming abbiamo visto che nel topolino la restrizione specifica degli aminoacidi a catena branch and amino acid praticamente migliora riduce la diposità e migliora l'insulino la tolleranza cioè riduce il rischio di breviabete diabete nei topolini in uno studio parallelo pubblicato che sempre nel stesso lavoro sull'uomo dimostriamo che una riduzione dell'introito proteico vedete per 4-6 settimane abbiamo chiesto a questi pazienti di ridurre l'introito proteico del 7-9% quindi consumavano 64 grammi di proteina al giorno rispetto alle 95 grammi che tipicamente gli americani consumavano questo ha comportato una riduzione nel plasma dei branch and amino acids significativa e una riduzione anche se la dieta era isocalorica del peso corporeo vedete di 2,6 chili in un mese una riduzione del grasso misurato con la dexa e del colesterolo di 10 punti abbiamo dimostrato come nel modello animale una riduzione della glicemia significativa di 5,7 milligrammi decilitro nessuna modificazione dell'insulina perché per far quello ci vuole una riduzione del peso del grasso una riduzione importante dell'infiammazione della proteina cereattiva e un raddoppiamento dell'FGF21 a conferma di altri studi che dimostrano che sia il digiuno che la restrizione proteica aumentano l'FGF21 che è un fattore di crescita importantissimo che sappiamo nei modelli animali allungare la durata della vita vedete che i topi transgenici per FGF21 in rosso vivono molto più a lungo del gruppo di controllo e di nuovo restrizione proteica restrizione dell'introto proteico e digiuno aumentano FGF21 per finire insomma quello che volevo dirvi è che questo non è un studio mio ma è di Bettina Mitterndorfer che al di là dell'introito proteico che è importantissimo dell'introito calorico che è importantissimo nel regolare l'insurna sensibilità l'introito proteico ha un effetto potenziante vedete che in questo studio di donne obese che con obesità che sono state randomizzate a perdere il 10% del peso corporeo però metà con una dieta normoproteica 0,8 grammi per chilogramma peso corporeo l'altra metà invece consumava una dieta iperproteica 1,3 grammi di proteine per chilogrammi peso corporeo in realtà questo è stato fatto questo aumento è stato fatto dando a queste donne un supplemento di whey protein cioè delle proteine del latte che sono ricchissime in amminoacidi ramificati e vede praticamente che tutte e due hanno perso lo stesso grasso viscerale lo stesso grasso epatico misurato con la risonanza ma guarda guarda le donne che hanno perso 10% del peso corporeo con una dieta normoproteica hanno avuto il classico miglioramento dell'insulino sensibilità mentre quelle che hanno perso lo stesso peso corporeo lo stesso grasso viscerale lo stesso grasso epatico con una dieta iperproteica 1,3 grammi per chilogrammo peso del corporeo ricca di aminoacidi ramificati di whey protein hanno avuto zero improvement dell'insulino sensibilità misurato col clamp che è il gold standard per misurare l'insulino sensibilità il che dimostra fondamentalmente che una caloria non è una caloria e che perdere peso con una dieta iperproteica previene il miglioramento dell'insulino sensibilità legata al weight loss la visceral fat loss e quindi queste persone che consumano queste diete iperproteiche adesso la nuova moda non è più la paleo ma è la 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 chetogenica che se poi andiamo a vedere in realtà cos'è che consumano le persone che mangiano una dieta chetogenica non mangiano carboidrati e consumano praticamente carne pesce e più ricchi di grassi quindi ci aggiungono più olio più semi più 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 panna e via dicendo cibi ricchi di grassi ma allo stesso tempo non è che possono mangiare soltanto olio avocado e noci quindi consumano fondamentalmente un sacco di prodotti di origine animale e questo fondamentalmente gli studi dimostrano prevengono i benefici della restrizione calorica della perdita di peso le bloccano quindi queste persone malgrado sono più magre hanno meno grasso viscerale ed epatico sono ancora insuloresistenti e quindi hanno l'iperinsulinemia che attiva le vie di segnale pro invecchiamento po' cancro un altro studio che abbiamo pubblicato con Roberto Pili dimostra che ad esempio una riduzione proteica nel modello animale migliora l'effetto di queste nuove terapie che attivano il sistema immunitario nel riconoscere e uccidere le cellule tumorali voi sapete che negli ultimi anni sono sviluppati questi farmaci come gli anti-PD-1 che i tumori praticamente producono delle sostanze che bloccano i linfociti citotossici nel riconoscere e distruggere le cellule tumorali sono veramente dei meccanismi intelligentissimi cioè loro la cellula tumorale dice ok produco un qualcosa che blocca l'attivazione del sistema immunitario nel riconoscermi nel uccidermi con queste praticamente nuove farmaci che si chiamano anti-PD-1 viene bloccato questo meccanismo e questo è un effetto nel aumentare nell'uccisione dei tumori soprattutto funziona per il melanoma ed altri tumori e quello che sta emergendo e questo studio ed altri studi dimostrano che la dieta modula l'attività del sistema immunitario ed è efficace di questi farmaci nell'uccidere i tumori poi per finire vi ricordo che la dieta quello che consumiamo modifica il nostro microbioma intestinale non solo quello intestinale vaginale pelle bocca perché perché noi abbiamo miliardi di batteri che vivono su di noi e dentro di noi e naturalmente quello che mangiamo ha un effetto importantissimo nel modificare il micro intestinale è normale voglio dire se io consumo un cibo ricco di fibre seleziono dei batteri che digeriscono le fibre se consumo una dieta ricca di proteine seleziono dei batteri che invece digeriscono spezzettano queste proteine ed è quello che in questo paper che abbiamo pubblicato su Science con Jeffrey Gordon dimostriamo che negli animali dello zoo di Sydney i carnivori e gli erbivori e gli onnivori hanno una composizione del microbiolo intestinale completamente diverso di nuovo i carnivori hanno un arricchimento di batteri che digeriscono le proteine che le spezzettano mentre gli erbivori hanno un aumento dei batteri naturalmente relativo che digerisce le fibre e sintetizza ma non sintetizza nuove proteine e in questo lavoro abbiamo usato dei miei volontari che fanno restrizioni calorie e quindi hanno una dieta molto precisa e molto accurata e abbiamo visto che come negli animali l'introito proteico e il contenuto di fibre sono due dei nutrienti più importanti nel modificare la composizione e la funzione dei batteri intestinali che vivono appunto nel nostro tratto digerente abbiamo dimostrato sempre con Jeffrey Gordon che il tipo di dieta che consumiamo modifica il micro obiettivo intestinale che a sua volta modifica la risposta a vitamine e fitocomposti che assumiamo in questo studio pubblicato su Cell abbiamo dimostrato praticamente che la risposta fisiologica la peristalsi in risposta alla stessa concentrazione di turmeric che è un fitocomposto del curry di questa spezia che si usa per fare per esempio in India il riso dipende dal tipo di batteri che abbiamo trapiantato in questi germ free mice in questo altro paper pubblicato su Cell host microbiome con Jeffrey Gordon dimostriamo che la risposta metabolica alla restrizione calorica viene modificata dalla composizione del microbioma intestinale cioè significa che a parità di perdere di peso i tipi di batteri che abbiamo nel nostro intestino modificano la risposta metabolica il cambio dei metaboliti quindi capite come è complesso è interattivo questo intersecarsi di diverse funzioni ma ripeto gli studi dimostrano chiaramente che la composizione il bilancio energetico gioca un ruolo principale poi tutti gli altri a cascata vanno a modulare questo effetto importantissimo del bilanciamento energetico poi vi spiegherò in altri video perché qual è la teoria che spiega questa relativa importanza cioè per riassumere in una scacchiera avete gli scacchi voi avete il re e la regina che sono i due pezzi più importanti poi avete gli alfieri i cavalli le torri le pedine ok nell'organismo ci sono delle funzioni principe nel regolare l'introito calorico la restrizione calorica il re l'attività fisica la regina e poi l'introito proteico è l'alfiere le fibre sono il cavallo la composizione di grassi saturi mononsaturi polinsaturi sono il la torre e poi tutte le vitamine i fitocomposti e via dicendo sono le pedine e tutte queste fondamentalmente insieme sono fondamentali per vincere la partita scacchi facendo le mosse giuste che ci permettono fondamentalmente di mettere in rete tutte queste vie di segnali metaboliche molecolari in una maniera personalizzata che ci permette di ottimizzare la nostra salute cellulare metabolica molecolare e ridurre il rischio di sviluppare molteplici patologie croniche generative e aumentano la probabilità di vivere una vita lunga e sana conclusioni allora vi ho spiegato e questi sono tre review article che ho pubblicato sulle più importanti riviste al mondo Science nel 2010 Cell nel 2015 Nature Reviews Molecular Cell Biology nel 2022 queste qua appunto per pubblicare su queste riviste bisogna essere i massimi esperti mondiali e non viene invitato non è qualsiasi ricercatore non viene invitato a pubblicare su queste riviste review article se non sono considerati i massimi esperti mondiali ma al di là di quello non è quello che voglio dire voglio dire che la scienza di come la modificazione della dieta dei diversi componenti della dieta l'introito calorico le fibre le proteine gli amminoacidi la distribuzione dei pasti è è sofisticata quando iniziai vent'anni fa a lavorare negli Sti Uniti c'era non c'era quasi nulla nell'uomo era tutto nel modello animale in questi vent'anni il mio laboratorio in primis ma tanti altri laboratori in giro per il mondo hanno generato un insieme di dati che ci permettono di dire con forza che la nutrizione è l'intervento principe il re nel regolare la salute metabolica molecolare e la longevità in salute naturalmente la dieta interagisce con i geni ricordatevi che in base agli studi fatti sui gemelli monozigotici circa un 20-25% della probabilità di una vita lunga o breve è legato ai geni il resto è legato agli stili di vita e la dieta gioca un ruolo principe per l'attività fisica ho già spiegato ci sono un insieme di video che ho fatto se cercate su YouTube devo concluderli ma ce ne sono 4-5 in cui ho iniziato a spiegare i meccanismi attraverso cui l'attività fisica regola queste vie di segnale di invecchiamento poi naturalmente il training cognitivo il sonno gioca un ruolo importantissimo nel rischio di demenza di infiammazione di neuroinfiammazione e tante altre cose naturalmente la meditazione chiaramente il fumo di sigaretta l'inquinamento i farmaci che prendiamo i fitocomposti i probiotici il sole con la vitamina D l'alcol sono tanti fattori che formano questo puzzle della longevità che ripeto invece di essere una prescrizione che va uguale per tutti cioè la dieta mediterranea è uguale per tutti la dieta paleo è uguale per tutti la restrizione di caldo no ognuno di noi è diverso perché abbiamo un profilo genetico diverso e quindi in ognuno di noi bisogna disegnare un intervento un intervento che è specifico riassumo se andiamo in maniera così amatoriale a correre andare in bicicletta a nuotare l'attività fisica fa bene a tutti e in qualche maniera migliora la nostra fitness ma se io voglio veramente ottimizzare la mia performance cioè se io sono un atleta olimpionico o un ciclista professionista un tennista professionista un calciatore professionista è chiaro che il tipo di allenamento che devo fare io che sono non so un centometrista o un fondista è diverso da un altro due diversi atleti devono seguire un programma di allenamento che è specifico alle loro caratteristiche psicofisiche e questo può essere fatto soltanto dagli esperti che conoscono quali sono i marcatori e quindi possono disegnare un intervento che è specifico per quella persona ok quindi questo è il rassunto naturalmente quello che stiamo scoprendo è che quello che facciamo sia in termini di nutrizione che di stili di vita impatta anche la salute ambientale che come sapete è un problema che sta emergendo con forza perché il pianeta si sta riscaldando abbiamo negli ultimi cento anni di rivoluzione industriale impoverito i terreni deforestato il mondo inquinato i fiumi i mari che sono ricchi di mercurio di altre sostanze tossiche l'aria è pesantemente inquinata in molte parti del mondo i terreni e quindi c'è un sacco di lavoro da fare nel modificare il nostro stile di vita per cercare di consegnare ai nostri figli ai nostri nipoti pro nipoti un mondo vivibile perché attualmente non lo sarà quindi al di là della nostra salute psicofisica e mentale spirituale di cui vi ho già parlato che sono altre cose importanti al di là c'è anche un discorso spirituale emozionale un percorso che deve essere fatto perché noi siamo un corpo che è un mezzo ma poi il corpo è un mezzo per lo sviluppo emozionale spirituale intellettivo di esseri umani completi completi a 360 gradi ma se noi non agiamo sull'ambiente anche se saremo sani l'impatto di questo sconvolgimento ambientale avrà delle ricadute sulla nostra salute psicofisica enorme quindi mi raccomando impegnatevi spingete i vostri politici a prendere ad agire prima che sia troppo tardi e vi ricordo ho quasi finito che l'invecchiamento non inizia a 65 anni ma inizia in utero anzi ben prima sappiamo che quello che facciamo prima della procreazione modifica l'epigenoma cioè non modifica i geni ma modifica come i geni vengono letti in qualche maniera è come se posso fare un esempio un'analogia un direttore d'orchestra quando ha una partitura le note rimangono le stesse però il direttore d'orchestra può decidere di modificare l'interpretazione può decidere di accelerare alcune parti ridurre il tono il ritmo il colore e chiaramente l'effetto auditivo di diverse interpretazioni dello scritto della spartitura evidente da tutti e quello che abbiamo scoperto di nuovo che gli stridi vita modificano l'epigenoma cioè come l'informazione contenuta del DNA viene letta e questo modifica il nostro rischio di sviluppare diverse patologie croniche generative quindi ripeto l'invecchiamento inizia prima della concezione quindi se veramente vogliamo bene i nostri figli dobbiamo innanzitutto mantenerci sani per aumentare la loro probabilità di essere sani perché hanno un epigenoma più sano naturalmente quello che succede durante la vita fetale è importantissimo lo sappiamo tutti e poi i primi anni di vita quindi se abbiamo gli stili vita corretti e scorretti fumiamo mangiamo amare siamo obesi non possiamo attività fisica ma siamo stressati via dicendo aumenta l'accumulo di danno metabolico molecolare lo accelera se invece abbiamo degli stili corretti riduciamo invece questo accumulo di danno metabolico molecolare la cosa importante è che ad ogni età possiamo modificare la traiettoria naturalmente se fino ai 50 anni ci siamo comportati male non è che possiamo azzerare questo accumulo di danno però possiamo sicuramente ridurlo e per alcune patologie ci può anche essere una regressione ok e infine fatemi finire con questa ultima diapositiva in cui voglio lanciare un messaggio dobbiamo modificare la nostra conversazione in campo sanitario e in campo dell'educazione dal concetto di malattia cronica a salute cronica purtroppo la maggior parte delle priorità e della spesa sanitaria per ricerca in salute sono focalizzate a trovare nuovi target farmacologici per lo sviluppo di nuove farmaci e altre tecnologie pochissimo viene investito nella scienza nella medicina e nell'educazione per la prevenzione delle patologie in maniera meccanicistica noi io che ho scritto questo lavoro insieme a un gruppo di colleghi riteniamo che questo entusiasmo nella ricerca farmacologica per il trattamento delle patologie potenzialmente ha un impatto distorsivo per la ricerca e per la pratica della medicina che ha delle ripercussioni anche non solo sulla salute dell'uomo ma anche sulla salute ambientale pensate che se milioni di persone malate assumono farmaci questi farmaci non si vaporizzano non scompaiono nel nulla ma vengono eliminati con le urine e le feci finiscono nell'ambiente che poi tornano nel nostro organismo giusto per fare un esempio delle ripercussioni di un modello che è malato che di nuovo si basa prevalentemente sul generare business nuove company per produrre ricchezza ma noi dobbiamo avere una visione globale sistemica non soltanto specifica certo se una malattia voglio essere curato benissimo ma dobbiamo ridurre il numero di malati per ridurre l'impatto ambientale sanitario finanziario e quindi è fondamentale transitare da un sistema attuale che è primariamente basato sulla trattamento delle malattie a un sistema bilanciato di prevenzione e trattamento personalizzato che ci permetterebbe di ridurre le disparità sociali nella salute e nell'ottenere dei sistemi sanitari finanzialmente sostenibili economicamente sostenibili e una copertura sanitaria gratuita per tutti cosa che anche in Italia che adora ha un sistema sanitario gratis visti i numeri che vi ho raccontato all'inizio di un invecchiamento progressivo che raggiungerà il 34% nel 2050 molte di queste persone non sono sane hanno più patologie l'epidemia di obesità e stili di vita scorretti aumenteranno il numero di persone malate renderà probabilmente il sistema sanitario nazionale non sostenibile o comunque profondamente ineguale in cui alcune persone non potranno accedere ci saranno delle liste d'attese enormi e quindi ci sarà un aumento ulteriore della disparità sociale dove i ricchi si potranno permettere di andare a pagamento nelle cliniche private super tecnologiche e i poveri dovranno aspettare ciò non toglie vi dico che anche se sei ricco e comunque puoi accedere alle migliori cure se intanto comunque si è accumulato il danno metabolico molecolare ti è venuto un cancro al pancreas al polmone o sei demente tutti i soldi di questo mondo non potranno guarirti quindi attenzione anche ad avere questa visione sono ricco poi mi potrò permettere le cure no non funziona sempre così anzi spesso non funziona così una volta che un danno importante si è fatto si può agire ma fino a un certo punto ripeto come se io non ho cambiato la cinghia di trasmissione e mi salta la cinghia di trasmissione si rompe il motore posso poi ripararlo ma non non tornerà più il motore di prima in alcuni casi il motore praticamente verrà completamente distrutto quindi ripeto per poter mantenere il sistema sanitario nazionale il nostro gioiello sostenibile dobbiamo investire pesantemente come ho scritto in questo lavoro pubblicato su Plus Medicine in prevenzione ed educazione quindi non è non è sufficiente promuovere prevenzione negli ospedali negli ambulatori nelle cliniche ma bisogna anche assolutamente iniziare a fare dei programmi di educazione che iniziano nelle scuole elementari si insegna la matematica si insegna la grammatica le elementari si insegnano alcune materie si dovrebbe iniziare ad insegnare questi concetti che vi ho spiegato in maniera semplice naturalmente si iniziano con delle cose molto semplici si fa capire come funziona l'organismo umano non soltanto l'anatomia come funziona l'intestino il cuore ma proprio spiegare invece il meccanismo attraverso cui gli stili di vita influenzano la salute e poi man mano che una persona progredisce prima, seconda, terza, quarta, quinta, elementare, le medie cioè dovrebbe diventare questa una materia fissa ogni settimana ci dovrebbero essere due se non tre ore a settimana di queste lezioni in maniera che man mano che uno passa dall'elementare alle medie al liceo comunque le scuole superiori all'università diventa sempre più sofisticata la conoscenza come una persona parte dalle addizioni sottrezioni tabelline divisioni algebra analisi ugualmente ci dovrebbe essere una progressiva approfondimento di questi concetti che poi diventano parte una seconda natura normalmente io una persona non è che si mette a pensare se come scrivere il congiuntivo il condizionale dove mettere l'avverbio il verbo diventa una seconda natura perché da piccolo lo impari e poi ripetendolo diventa parte di te stesso uguale con questi concetti dovrebbero essere insegnati regolarmente e dovrebbero diventare parte integrante della conoscenza come tutto in biologia ci sarà una distribuzione ci saranno quelli che malgrado abbiano studiato questi concetti hanno un cattivo risultato e alcuni che sono dei super achievers e poi c'è la mediana ma naturalmente se spostiamo la curva destra avremo un miglioramento delle conoscenze e quindi una ricaduta salutare sulla società che in base agli studi scientifici attuali dovrebbe essere enorme in termini di salute longevità e risparmi finanziari e sostibilità delle finanze pubbliche per quel che riguarda la salute dell'uomo e dell'ambiente e con questo concludo vorrei ringraziare tutti i miei colleghi negli Stati Uniti in Europa in Australia per le collaborazioni lo scambio di informazioni di materiale di studio per chi è interessato ad approfondire queste tematiche in maniera seria seguendo le più avanzate ricerche scientifiche mi può seguire sul mio canale YouTube è chiaro che l'argomento è molto complesso sono 25 anni che faccio questo lavoro come scienziato perché non mi conosce sono un professore ordinario direttore di cattedra direttore del scientifico del Royal Prince del Charles Perkins Center Royal Prince Health Clinic all'Università of Sydney Sydney Local Health District il direttore del programma di longevità in salute dell'Università di Sydney precedentemente ero professore ordinario alla Washington University e sono tuttora in aspettativa professore ordinario all'Università di Brescia quindi ho 25 anni di bagaglio scientifico medico in questo in questo argomento che penso di capire di aver studiato con i miei studi e seguendo la letteratura in maniera direi approfondita e quindi quello che sto cercando con questo canale YouTube L Fontana 1969 è di diffondere contenuti scientifici seri basati sulla le più attuali conoscenze scientifiche per semplicità c'è un canale in italiano un canale cioè ho fatto delle cartelle in italiano delle cartelle in inglese ok divise per argomenti le novità queste letture come questa dei video sulla nutrizione ci sono dei nuovi lavori scientifici della nutrizione importante che ritengo importanti faccio dei piccoli video molto più breve di questi 5-6 minuti sull'attività fisica sulle diete plant based sulla salute emozionale spirituale il respiro il sonno la filosofia del well-being che è importantissima come ho già spiegato in alcuni video lo stile di vita la promozione la salute ambientale planetaria e tante altre cartelle che sto creando quindi se vi interessa se vi interessa essere informati sulle più avanzate ricerche scientifiche risultati scientifici spiegati in maniera semplice ma non banale non venire sul mio canale se vi interessano le spiegazioni le fed diets o queste cose così poco scientifiche ma se invece vi interessa approfondire gli argomenti in maniera scientifica ripeto un servizio che faccio alla comunità perché ritengo sia importante trasmettere informazione e trasmettere quello che la scienza ha scoperto e sta scoprendo per promuovere salute umana sia fisica che mentale che spirituale che salute ambientale e planetaria e con questo vi saluto e vi ringrazio ci vediamo prossimamente con un altro video grazie 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 a tutti grazie a tutti